Ciao a tutti, ben ritrovati! Eccomi qua con l'ultimo ritratto luminoso. Ta-da! Questa volta un disegno con matite colorate su carta realizzato per una donna che si chiama come me e che si è voluta fare un regalo. Il sentimento che mi ha accompagnata nella realizzazione è stato la gioia, che è il profumo di quest'anima e quindi è stato un viaggio strepitoso e meraviglioso. È interessante perché per ogni ritratto realizzato ci sono delle emozioni diverse che si presentano, ci sono dei lavori interiori diversi da compiere, sono delle cose da affrontare che vanno integrate e liberate. Vi leggo la lettura angelica che è arrivata per questa donna meravigliosa molto vicina al regno delle fate. Ascoltate! Si chiama Seme d'autunno, si schiudono visioni nella danza della gioia. Questo è il tuo profumo, che nell'intimo tuo nasce e si espande. Negli occhi la luce, nel sorriso il sole che brilla d'arancio e rosso. Renni di fate, case per te. Il calore umido della terra d'autunno fa schiudere ogni seme. Alcuni saranno fiori e querce, altri nutrimento per questi. Nel cuore sai che tutto è meraviglia e pace. Con un sorriso ti espandi leggera, abbracciando l'universo intero nella dolcezza divertita del tuo volo. Ridi, 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 assapora, godi e ridi. Molto leggero e bello anche questo messaggio. In questo ritratto mi sono molto divertita a giocare con i colori fluo, che sempre mi sono piaciuti. Quando ero piccola amavo gli evidenziatori, anche a scuola li ho sempre usati. E quindi ritrovarli adesso è davvero piacevole e bello per me. Io vi ringrazio per l'ascolto. Se vi piace questo video condividetelo. Se non l'avete ancora fatto venite sulla mia pagina, Angeli Crembo Varte e lasciate un mi piace. E se volete un ritratto luminoso per voi o da regalare alle persone che amate oppure volete che io ritragga il vostro spirito guida o l'angelo custode oppure l'animale di potere o l'albero alleato, non avete che da contattarmi. Vi mando un bacio e vi ringrazio. Grazie a tutti.